spazio del fluire poesia e pensiero e allora oggi propongo una poesia come sempre la vita offre sempre fino all'ultimo l'opportunità di conoscere se stessi attraverso l'altro l'amore è un regalo della vita per la vita il fluire incessante dell'energia quantica di cui noi siamo immersi e da cui emergiamo come coscienza ci porta all'io al qui all'ora nell'eterno presente dove il tu è il testimone reciproco del nostro esistere ho scelto questa mia poesia perché la trovo adatta in questi giorni che riprendiamo a uscire a incontrare le persone con le debite distanze ma come questo ci rendiamo conto che è indispensabile l'incontro incontrare l'altro abbiamo bisogno di incontrare l'altro per riconoscere noi stessi e questo scambio è vitale e quindi la forma di relazione si dice amore in tutte le sue forme è qualcosa che nutre quindi abbiamo bisogno continuamente di relazioni e di relazioni d'amore declinate come le volete ma sono essenziali e in questo momento così particolare ne abbiamo estremamente bisogno di recuperare la nostra capacità di amare di recuperare le nostre relazioni di poter esternare ed esprimere i nostri effetti affetti ma anche di poter esprimere ed esternare la nostra creatività io insisto molto sul fatto che oggi più che mai abbiamo necessità della creatività dell'immaginazione della forza del coraggio per ricostruire cose nuove relazioni nuove progetti nuovi ognuno nel proprio campo ognuno nel proprio sapere ognuno nelle proprie possibilità ma quello che è indispensabile è attingere a questa grande forza dentro di noi e scambiarla e interagirla con l'altro ecco questo per quello dico che la vita sempre offre fino all'ultimo opportunità per noi e per gli altri ecco questo per gli altri